Adesso passiamo al nostro penultimo gruppo, un gruppo ancora più numeroso di quello che è appena venuto, composto da Yuri, Denise, Patrizia, Fabiana, Sauro, Antonio, Elisabetta, Federico e Ilaria. Un bel applauso! Benvenuti! Due parole sul vostro stile e su questo gruppo, per favore. Ok, sono Sauro, il nostro stile è steampunk, quindi è nato da un vittoriano rivisitato su tecnologia moderna, quindi veniamo un po' dal tempo. Perfetto, in bocca al lupo! Un bel applauso! Perfetto, in bocca al lupo! Perfetto, in bocca al lupo! Un applauso per questo gruppo numerosissimo, per favore! Grazie mille!